Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Con sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovi vari percorsi di miglioramento evocato per voi, scegli quello che fa per te. Perché le ragazze non fanno complimenti estetici agli uomini? Come vi dico sempre, le ragazze non sono attratte principalmente dall'aspetto estetico di un uomo, quindi i loro complimenti non si soffermano sulla parte veramente estetica, tanto quanto facciamo noi uomini, che siamo attratte dalla parte fisica di una ragazza. Le ragazze sono attratte da tutt'altro, dalle parti comportamentali, da il come si pone, da come la persona, l'uomo in questo caso, si comporta e fa sentire la ragazza. Quindi la ragazza non ti farà mai un complimento, almeno sì potrà fartelo, però se te lo farà, un complimento fisico ovviamente, sarà su un particolare dettaglio che a lei piace, magari la cura che hai delle mani, il tuo apportamento, insomma, un qualcosa che è sì visibile con gli occhi, ma non è superficiale, così come sarebbe il complimento superficiale di un maschio che vi dice, ah, si è bellissimo, ha i capelli, ha gli occhi, ha le orecchie, quello che è. Loro si soffermano sul dettaglio, su quella particolare cosa che le ha colpite. Poi non è che disdegnano un corpo fisicamente prestante, parliamoci chiaro, però ecco, non è la loro prima preoccupazione. Questo è quanto, vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione al sito www.renasciare.net trovate vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi, scegliete quello che preferite. Ci vediamo in un prossimo video.